L'Aquila si candida ad ospitare i Mondiali Master di Atletica Leggera nel 2022 dal 16 al 31 luglio. Il consigliere regionale Pierpaolo Petruccia ha raccolto l'invito lanciato dall'ex atleta a capo del Comitato Promotore Gianni Lolli che ha messo in moto tutta la macchina organizzativa e il Regione, alla presenza tra gli altri dell'assessore allo sport Silvio Paulucci, si è riconfermato l'impegno anche economico a supportare la candidatura. Io cerco di trasmettere tutto l'entusiasmo perché ho capito fino in fondo le opportunità che possono nascere da questo evento. Un evento che vedrà l'Aquila se a settembre saremo scelti e ci sono tutti i presupposti come luogo che può ospitare questa manifestazione sarà un momento indimenticabile per tutto il territorio e per la Regione Abruzzo. Pensate soltanto che l'Aquila insieme alla città di Tampere è candidata alla Finlandia per essere scelta per i Mondiali 2022 del Master di Atletica. Con la commissione che è arrivata già da due giorni abbiamo visionato gli impianti e continueremo a vedere alcune cose, abbiamo discusso su tutte le possibilità, sono rimasti entusiasti di due o tre ambienti eccezionali che ci sono e che mi hanno addirittura detto magari avessimo questo a Malaga per esempio. Allora Malaga sarà un punto importante, l'impegno però vorrei ancora un impegno ancora più profuso da parte del Comune che un po' nicchia ma ha sempre i problemi economici ma sono sicuro che grazie a Pierpaolo questo impegno e questa interazione fra le parti sarà sicuramente eccezionale. L'Aquila in caso di scelta ospiterebbe circa 9.000 atleti ai quali si aggiungerebbero membri dello staff, accompagnatori, le famiglie con tutti i benefici economici che questa grande manifestazione potrà riportare al territorio intero. In città in questi giorni anche i membri della commissione internazionale presenti in conferenza a stampa hanno visitato gli impianti sportivi cittadini per valutare la congruità. A settembre si deciderà l'Aquila e l'Izza con Godeborg in Svezia e con Tampere in Finlandia. L'assessore Paolucci ha parlato anche di impegno economico, 30.000 euro per sostenere la candidatura, altri 300-400.000 euro nei prossimi anni in caso di scelta. Fondamentale sarà la sinergia, anche il Comune tramite l'assessore Mannetti ha assicurato la disponibilità soprattutto per quel che riguarda la logistica e tutti gli altri seduti al tavolo, anche le forze sportive, hanno ribadito l'importanza della sinergia tra tutti gli attori e le istituzioni coinvolti. Il presidente della commissione Stamp Parking si è dimostrato piacevolmente colpito da questo supporto dato dagli enti. La scelta non sarà facile.